Noi abbiamo bisogno di lavorare con la nostra immaginazione e con la nostra creatività. Rilassando tutte le singole parti del corpo si accede più velocemente nel mondo interno. Mi piace parlare della recitazione come un gioco, no? Non è caso in inglese si dice to play, recitare, perché noi dobbiamo giocare. Attraverso la pallina noi comunque possiamo trasmettere la nostra energia. Non è come un filtro che comunque mi consente di avvicinarmi all'altro. Lasciare andare, permettere che il mio corpo abbia una reazione. Azione, reazione. Agisco perché sento qualcosa. Non agirò mai a caso. Se non imparate ad ascoltare, non imparerete mai ad avere una buona dizione. E? E? Dov'è la differenza? È proprio il suono. E io è su questo che vi sfido e vi spingo. Cantiamo una canzone, la canzone ha il suo ritornello, ha il suo musicalità. Però se la canta qualcun altro ci rendiamo subito conto quando stona, giusto? Ecco, noi facciamo lo stesso lavoro, però lo facciamo su un testo. Da dove? Pronto? Da dove? Da dove ho fatto vedere prima? Sì, da spesso. Allora io nel silenzio deglutisco, trattengo quell'urlo, accuso quella battuta, non so cosa dire, ma capito? C'è energia. Noi dobbiamo da dentro creare questa roba, attraverso le emozioni. Come faccio a fidarmi di te? Un difetto non si nasconde, ricordatevelo, un difetto si esalta. Detto ciò, buona vita. L'abbracci, poi non ti puoi staccare come se fosse un estraneo, l'abbracci, la guardi, un luffetto, una cosa, un sorriso, capito? Non si può interrompere così un abbraccio. Vai, a capo. Abbraccio vero? No, non è vero. Non è vero. Ok. Che lungo? Questa cosa dell'abbraccio è ancora un po' meccanico. Fallo un po' più lungo e poi va, adesso fallo un po' più lungo. Uno, uno, prima. Poi andiamo di segno. Azzonso, 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 azzonso. Azzonso. Non sai, fanno Leclerc che è mio. Io Ferrari, però. Pronto a perdere? Meclerc. Meclerc. Tu ti sei un Meclerc. Eppure, ballo, ballo, ballo da capo. Giro. Tre, due, seconda. Astori, Riccardo e Sara. No, non sei tu. Perché? Mi fai schifo. Ma no, non mi fai schifo. Non sei tu. Curva a destra, due, due. Esatto, curva a sinistra. Tesicamente in azione, ma non così tanto. Tu immagina che anche semplicemente muovere lo sguardo all'interno di Supreme. Dai, giochiamo. Su, come buono. Per le paga la cena. Allora, prepara il portofoglio. Ciao. Grazie a tutti.